Ci sono vantaggi extra per le auto ibride? Altro che! Avere un'ibrida è come entrare in un club esclusivo, ma entrarci è facile. Con gli Hybrid Bonus puoi acquistarla al prezzo di una vettura convenzionale. E in più, in molte regioni e comuni, le auto ibride non pagano il bollo, possono parcheggiare gratis sulle strisce blu o entrare nelle ZTL e circolare anche nei giorni di blocco del traffico. Benvenuto nel club! Grazie a tutti!